Ragazzi volete vincere il nuovo pass battaglia della season 7? E' molto semplice, vi basterà lasciare un bel like, iscrivervi al canale attivando la campanellina E ovviamente farlo nei prossimi 6 secondi Bella! Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Firex, oggi ragazzi andremo a completare le sfide di questa nuova settimana 10 In particolare andremo a completare la sfida che ci chiederà appunto di posizionare telecamera in diversi luoghi di atterraggio delle navi Partiamo dalla prima posizione Ok ragazzi, prima posizione, partiamo a Corso Commercio Siamo esattamente davanti alla casa, quella principale, cioè all'inizio di Corso Commercio E questa qui sarà la posizione esatta dentro la mappa Passiamo alla seconda posizione ragazzi, ci dirigiamo verso Lago Languido ragazzuoli E questa telecamera si troverà esattamente sopra la montagnetta di Lago Languido Questa qui sarà la posizione esatta nella mappa Esattamente sulla montagnetta Passiamo alla terza e ultima telecamera Ci dirigiamo a Brughere Brumose E la sua posizione sarà esattamente sempre sulla montagnetta Ma in questo caso di Brughere Brumose Ecco la posizione esatta nella mappa Niente ragazzi, se questa guida vi fosse stata utile Vi invito a lasciare un bel like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina Noi ci vediamo con un prossimo video Bella raga! Ciao! Ciao! Grazie a tutti.